Salve a tutti, benvenuti a questa Assemblea Zoom. Come avete visto il tema di questa serata sarà la guerra ucraina in corso e abbiamo deciso di affrontare il tema invitando due compagni della nostra internazionale, LIT e Quarta Internazionale, di cui facciamo parte come sezione italiana e di fatto ci saranno tre relazioni principali. La prima del compagno Diego che fa parte della sezione russa della LIT, il Partito Operaio Internazionalista, poi ci sarà la relazione della compagna Florence Hoppen che fa parte della sezione statunitense Workers' Voice e infine la relazione finale di Francesco Ricci che è uno dei dirigenti della nostra sezione italiana. Contiamo di finire questa Assemblea circa verso le 22 e mezza e niente questo. Abbiamo deciso di affrontare una seconda volta il tema per tutto, penso per la riconosciuta importanza che condividiamo e secondo per la confusione dilagante che vi è in questo momento. Come sappiamo nei momenti di più forte crisi di questo sistema ciò spesso genera appunto una confusione nelle masse, ma non solo. Di fatto la stessa sinistra a livello internazionale, tra chi si autodefiniscono marxisti o meno, appunto è divisa in diverse posizioni. Dunque pensiamo sia utile oggi non solo fare un'analisi di ciò che sta accadendo, ma che è poi la base di partenza, diciamo così, della nostra posizione, ma anche ribadire quella che è la nostra posizione in questo momento. E di fatto è importante anche perché appunto di fatto siamo gli unici in questo momento a sostenere questa posizione. Come sapete la resistenza ucraina sta continuando, seppur Putin si aspettasse appunto di risolvere questa situazione tramite una blitzkrieg o comunque una guerra molto breve, in realtà ha incontrato una resistenza eroica da parte delle masse popolari ucraine e lo stesso governo Zelensky non solo ha avuto difficoltà ad armare le masse popolari, anche quando appunto le armate in realtà le armate con molte reticenze. Ma allo stesso tempo, come penso abbiate letto in questi ultimi giorni, di fatto Zelensky si sta preparando a capitolare, o comunque si è dimostrato disponibile a trattativa a ribasto e a questo possibile accordo con la Russia sui temi appunto delle garanze di sicurezza, sullo status delle repubbliche del Donbass e poi ovviamente sulla questione della Crimea. A questa resistenza stanno partecipando attivamente anche i lavoratori e anche grazie alle nostre parole d'ordine siamo riusciti ad entrare in contatto con un sindacato indipendente di minatori ucraini che sta partecipando esso stesso attivamente in questa resistenza. Infatti in una recente intervista che abbiamo fatto con loro, il presidente di questo sindacato, dell'Unione dei Lavoratori Indipendenti Ucraini, quando abbiamo chiesto quali sono le proposte concrete, ha affermato e ha invitato i lavoratori di tutto il mondo non solo a chiedere la cancellazione del pagamento del debito ucraino, ma anche a richiedere, a pretendere per l'Ucraina una fornitura di aviazioni e di armi. E parto proprio da questo suo invito per ribadire quella che è la nostra posizione, che non solo sosteniamo questo appello e anzi crediamo fortemente che le organizzazioni operaie, i partiti, i sindacati debbano diffondere questo appello. Però questo appunto pone in una questione centrale quella che è la questione delle armi e dei rifornimenti di ogni tipo. Di fatto in questo momento si tratta di una guerra, però come ben sappiamo, secondo noi, ma anche in realtà secondo gli Enin, non tutte le guerre sono uguali. E dunque è necessario per prendere una posizione contro questa guerra comprendere il carattere specifico di ciascuna guerra. E questa, secondo noi, non si tratta semplicemente di una guerra interimperialista, ma si tratta di una guerra in cui vi è un popolo che sta appunto subendo e sta resistendo contro un nemico di superiorità militare indiscutibile, appunto quello della Russia. Ecco perché l'armamento delle masse popolari ucraine e la loro resistenza è l'unica soluzione che possa effettivamente fermare l'invasione russa e in questo senso dobbiamo sostenere attivamente gli sforzi degli ucraini per acquisire appunto armi e rifornimenti per potersi difendere. Secondo Lenin, la posizione contro la guerra e i suoi risultati non dipendevano semplicemente dal tipo di direzione che la lotta aveva nel paese oppresso, ma dipendeva anche dal carattere specifico dei paesi in conflitto. Dunque, secondo me, appunto, secondo noi marxisti abbiamo il dovere di difendere il paese oppresso e di collocarci in questo momento nel campo militare, nel suo campo militare, ovvero nel campo militare ucraino. Ecco perché da questo sosteniamo la resistenza dei lavoratori e del popolo ucraino contro l'invasione e dobbiamo fare tutto ciò che c'è nostro possibile per sconfiggere appunto le truppe russe. Allo stesso tempo però, questo è utile ribadirlo, collocarci in campo militare dell'Ucraina non significa dare alcun sostegno, ovviamente, o alcuna fiducia politica al governo Zelensky o ovviamente anche la borghese Ucraina che essa stessa chiama a resistere a questa invasione. Questa posizione ci porta a denunciare dunque tutte quelle organizzazioni che sostengono poi nei fatti questa invasione russa poiché da molte organizzazioni viene posta a Russia di Putin come se facesse parte di un cosiddetto campo progressista o anti-imperialista e quindi l'azione dell'invasione in realtà appunto è contro l'imperialismo e contro il braccio militare dell'imperialismo che poi l'ha nato. Allora, non solo non siamo d'accordo con questa posizione ma non siamo neanche d'accordo con le posizioni che stanno assumendo ampi settori della sinistra mondiale che rifiutano ad esprimersi contro l'invasione di Putin o prendono appunto addirittura una posizione neutrale. Ecco, noi crediamo che in questo momento dobbiamo sostenere appunto concretamente la resistenza ucraina ma allo stesso tempo conduciamo anche non solo una critica verso l'invasione russa ma anche denunciamo il ruolo della Nato come di fatto braccio militare dell'imperialismo e ovviamente lottiamo anche per la sua stessa dissoluzione. Ribadiamo inoltre con fermezza che la Nato, l'Unione Europea, l'imperialismo europeo l'imperialismo statunitense devono stare fuori dalla resistenza ucraina poiché come sappiamo benissimo l'obiettivo di queste forze non è sicuramente quello di sostegno al popolo ucraino quello di sistema di resistenza ucraina ma in realtà un obiettivo puramente imperialista semplicemente per avere le mani libere nelle risorse insomma minerarie e energetiche dell'Ucraina e allo stesso tempo cosa insomma di questi ultimi giorni denunciamo ovviamente anche il riarmo e l'aumento delle spese militari che è partito appunto inizialmente appunto dei vari paesi europei partito inizialmente in Germania adesso come sappiamo anche la stessa Italia che qualche giorno fa appunto il governo Draghi ha approvato questo ordine del giorno questa mozione che porterebbe a un rialzo del 2% dei costi di difesa del PIL e come sappiamo bene l'aumento delle spese militari non coincide con il sostegno alla resistenza ucraina non ha questo obiettivo in realtà ha semplicemente l'obiettivo di rafforzare l'imperialismo italiano di rafforzare quello che è il sistema difensivo e offensivo dell'esercito italiano sotto l'ombrello appunto della NATO noi dunque crediamo che in questo momento in questa confusione dilagante dobbiamo sostenere in maniera limpida chiara la resistenza ucraina nel concreto promuoviamo mobilitazioni in tutto il mondo per esprimere questo sostegno sosteniamo anche le masse russe che si stanno mobilitando contro l'invasione nel loro stesso paese come sappiamo stanno ricevendo una repressione da parte del governo Putin non siamo come ampi settori della sinistra si stanno dimostrando contro l'invio delle armi anzi chiediamo che si inviano le armi chiediamo che si inviano tutto il materiale necessario ovviamente senza alcuna condizione da parte dei differenti paesi imperialisti siamo totalmente contrari all'ingresso della NATO e donunciamo appunto il suo ruolo come quello dell'imperialismo europeo quello statunitense e noi pensiamo che l'unica posizione realmente in questo momento contro la guerra è appoggiare appunto come dicevo prima in maniera chiara la resistenza ucraina l'unica possibile garanzia di pace e indipendenza che si può sviluppare in questo momento è quello di rafforzare le organizzazioni operai i sindacati le organizzazioni appunto del movimento operaio in Ucraina e quello poi la sfida centrale che ci poniamo come marxisti ovvero quello di costruire una direzione perché secondo me oggi più che mai noi notiamo l'assenza il ritardo che abbiamo proprio nell'assenza della costruzione della direzione perché effettivamente l'unica garanzia può essere quella di costruire una direzione costruire un partito rivoluzionario che si in questo momento si ponga nel campo militare per cacciare l'invasione russa ma che poi dica alle stesse masse popolari ucranie di non avere alcuna fiducia nel governo borghese di Zelensky e che dopo deve girarsi e appunto e cacciare il governo borghese di Zelensky appunto e niente questo noi pensiamo che debba essere la posizione dei rivoluzionari finisco appunto dando in questo momento invece la parola al compagno Diego che fa parte appunto della sezione russa della LIT il partito operaio internazionalista che verrà tradotto da Fabiara Ciao Buona notte è una satisfazione di essere qui presenti con voi Ci saluto a tutti, buona serata, per me è importante, un onore essere qui a fare una relazione con voi. Putin dice che ha fatto la agresione contro la Ucraina per due ragioni, con un duplo obiettivo, lo di combattere la NATO e il di combattere il nazismo, ha detto che sta per la desnazificazione di Ucraina, sono due mentiras. Putin ha detto che ha invaso l'Ucraina per due ragioni, il primo motivo è perché vuole contrastare l'espansione della NATO, il secondo motivo è perché vuole contrastare il nazismo in Ucraina, cioè sarebbe a favore della denazificazione dell'Ucraina. Sono due bugie. Sono due bugie del mismo nivel che George Bush utilizzò al invadire l'Iraq, dicendo che si va a eliminare le armature di destruzione di massa. Sono bugie, esattamente come quelle che ha usato Bush, quando per agredire l'Iraq ha detto che lo faceva per distruggere le armature di destruzione di massa. Putin occupa, agride, invade l'Ucraina con un duplo obiettivo. Putin occupa, agredisce, invade l'Ucraina con due obiettivi. Il primo obiettivo è quello di spandere l'area di influenza della borghesia russa in tutta la zona del vecchio impero zarista. Escuchiamo di Putin e degli stalinisti che l'Ucraina sempre fuori parte dell'imperio russo o dell'Russia. È vero, contro la sua volontà. Sì, sentiamo sempre un fatto ripetere da Putin e dai suoi alleati il fatto che l'Russia è parte dell'imperio russo del passato. De hecho, l'Ucraina fue por 300 años parte dell'imperio russo, pero contra la sua voluntà. Esa, bueno. Pero con? Ucraina, de hecho, siempre fue parte dell'imperio russo, pero siempre contra la sua voluntà. Ok. Dice, è vero, in effetti, che l'Ucraina è stata parte dell'imperio russo per molto tempo, però sempre contro la volontà degli ucraini stessi. L'imperio russo è sempre stato definito dai marxisti come il carcere dei popoli e la rivoluzione di ottobre è quella che ha distrutto questo carcere. La rivoluzione di ottobre, seguendo la linea di Lenin, dà il derecho all'autodeterminazione di tutte le nazionalità che erano parte dell'imperio russo. La rivoluzione di ottobre ha posto al centro il diritto all'autodeterminazione dei popoli che facevano parte del vecchio imperio russo. E è così che l'Ucraina è nata come una nazione indipendente proprio come il risultato della grandiosa rivoluzione di ottobre. La contrarrevoluzione stalinista ha di fatto, vuoi dire, annullato questa conquista e ha costruito un nuovo carcere dei popoli, un nuovo carcere delle masse popolari paragonabile al vecchio imperio russo. E questa nuova carcere dei popoli è stata una volta derrumbata per le masse in luce al final degli anni 80 contro la rivoluzione del capitalismo, levata davanti dal proprio Partito Comunista. E così si è liberato una volta più a tutti i popoli che sono parte dell'antica Unione Sovietica. Sì, e tra l'altro questo carcere si è poi anche tradotto nella restaurazione del capitalismo in tutti quei territori e anche all'interno appunto di quei territori che sono stati poi trasformati in un carcere dei popoli da parte dello stalinismo. Però la nuova borghesia russa, sorgita dai quadri dell'antico Partito Comunista, che restauraron il capitalismo esattamente per trasformarsi in nuovi borghesi, non ha mai accettato il fatto che sia stato poi distrutto dalle rivoluzioni nel Paese dell'Este, nella stessa Russia, questo carcere dei popoli costruito dallo stalinismo. E Putin llega al potere con l'obiettivo di ricostruire questa dominazione russa sobre i demás pueblos. L'obiettivo di ricostruire questo carcere, diciamo questa oppressione nei confronti degli altri popoli, è proprio il motivo che ha portato poi Putin al potere. Non è una casualità che il governo Putin abbia iniziato con la seconda guerra di Cecilia. E non è un caso che poi di fatto Putin è andato al potere grazie in particolare alla guerra in Cecilia. Putin è nombrato al primo ministro e un mese dopo il suo nombramento comincia la seconda guerra di Cecilia, dove distrò la Cecilia, la sua capitale, Grossi, e smaga distrò il movimento independentista ceceno e, per lo conseguente, dei altri pueblos del campo. Sì, con la seconda guerra di Cecilia di fatto Putin ha rafforzato il proprio potere distruggendo il popolo ceceno, le masse popolari cecene che lottavano invece per la loro indipendenza e così ha avviato una politica simile negli altri paesi, negli altri territori della regione. Allo stesso tempo, implementa una politica di endurecimento del regime dentro di Russia, fortalecendo cada vez más il suo controllo sulla Russia e sui paesi lezioni. Al contempo, paralelamente portava avanti una politica di rafforzamento del regime autoritario interno, sia interno alla Russia sia, poi, diciamo, applicato e imposto nelle regioni occupate dalla Russia. Questa politica gli ha dato dei risultati in termini di rafforzamento del suo potere politico, in particolare durante il periodo del boom economico, tranzo in particolare al periodo in cui, diciamo, c'è stato il boom delle vendite del petrolio e del gas. Però con l'inizio della crisi mondiale, le cose cominciano a occuparsi del verbo della Russia, che la economia russa è una economia molto débil, il capitalismo ruso, per mantenere solo per la forza dell'economia questi paesi e nazioni all'editor della Russia. Sì, però le cose poi hanno iniziato a cambiare quando è iniziata la crisi economica a livello mondiale, perché il capitalismo ruso in realtà è un capitalismo economicamente debole e quindi fa fatica a controllare, diciamo, tutte le regioni limitro che attrano alla Russia, che vorrebbe invece soggettare Putin. E nel proprio anno in cui è iniziata la crisi economica mondiale, il 2008, Putin anche fa la guerra contro la Georgia. Ha? Putin ha? Leva iniziata la guerra contro la Georgia. Nel 2008, proprio nell'anno in cui è iniziata la crisi economica a livello internazionale, a livello mondiale, non casualmente Putin ha iniziato la sua politica di aggressione nei confronti della Georgia. E desde entonces una serie de politicas contrarrevolucionarias contra otros pueblos. Fue el caso de... Como vivanse enero de ese año en Kazakistan, o así un año y medio en Belarus, con el envío de tropas para reprimir los levantes populares. Sì, e questo, diciamo, è stato solo l'inizio di una politica contro di questo tipo, perché abbiamo visto recentemente, no, la politica di Putin nei confronti della rivolta in Kazakistan, proprio all'inizio di quest'anno, e così negli anni precedenti, 2020-2021, diciamo, la repressione invece delle rivolte, della rivoluzione in Belarusia. E, en ese sentido, podemos también poner la politica di Putin para... contra la rivoluzione in Siria, donde salva al dittatore Assad o su politica di apoyo a la Junta Militaria en Egipto. Sì, e bisogna anche ricordare la politica contro rivoluzionaria di Putin in Siria, dove Putin ha sostenuto attivamente il dittatore Assad e tutta la sua crica, diciamo, la sua crica che ha sterminato poi i rivoluzionari siriani. Putin salvò o mantuvo i dittatori in tutti questi processi, però c'è un luogo in cui Putin fu derrotato. Questo fu nel levante ucraniano, la rivoluzione ucraniana del 2014. Sì, Putin, di fatto, ha sostenuto, salvato tutti i dittatori, diciamo, i suoi alleati, però, di fatto, non ha potuto non subire l'effetto della rivoluzione ucraina del 2014. In Ucraina, nel 2014, Putin non poteva imponere a suo dittatore o salvare, come fu con Assad o con Lukashenko in Belarus. fu derrotato per le masi in la calle, che conquistaron libertà democratica e di organizzazione politica e sindicale, e hanno disolvito la politica politica e le forze di repressione. A differenza che negli altri territori, negli altri paesi, Putin non è riuscito nel 2014 a imporre un dittatore, suo alleato, un governatore, suo alleato in Ucraina, e non è riuscito a contrastare la forza della rivoluzione delle masse, che invece sono riuscite a conquistare una serie di libertà democratiche in Ucraina, e quindi anche a cacciare un alleato di Putin anche che era il governo. Quando surge la rivoluzione in Ucraina, la Maidan, genera una grande simpatia in Moscò, che un anno antes della rivoluzione ha protagonizzato grandi manifestazioni con 100.000 in las calles di Moscò contro Putin. Tra l'altro bisogna ricordare che quando c'è stata la rivoluzione del 2014 in Ucraina, c'è stata anche una grande simpatia tra le masse russe, e c'era stata infatti proprio in quel periodo una manifestazione di circa 6.000 persone, che in Russia diciamo non è poco, visto il regime che è in vigore, a Mosca. De la misma maniera, la primavera árabe genera una grande simpatia in tutte le regioni della maggioria musulmane, in questi paesi dell'America Centrale o del Càucaso, una simpatia per il processo rivoluzionario. Si, la stessa, diciamo, motivo, diciamo, una cosa simile a quello che è avvenuto, diciamo, con le rivoluzioni árabe, che hanno poi avuto, no, un grande appoggio da parte di popoli, di altri popoli in America Latina o in altri territori. E è per questo, per questo riesgo a suo regime, che Putin reacciona con molta forza con l'annexione del Crimea, l'occupazione con mercenari del Donbass e la destruizione di Sì. E proprio per questa simpatia che stava generando nei territori controllati da Putin la rivoluzione di Maidan, la rivoluzione del 2014, che ci spiega la reazione di Putin che ha annesso la Crimea e ha cercato poi di annettere il territorio del Donbass. E' questo che bisogna avere chiaro, che la politica di Putin è, prima di tutto, una politica contro rivoluzionaria, una politica che ha come obiettivo quello di contrastare i movimenti rivoluzionari in tutta la regione e mantenere il controllo invece del suo, della Russia, in quei territori. La prova di che i ideali della rivoluzione ucraniana del 2014 si seguono vivi, è esattamente la grande resistenza popolare contro la occupazione che stiamo vivendo oggi, che trasforma una guerra di agresione in una guerra popolare di libertà nazionale. La prova di che i ideali della rivoluzione di Maidan sono ancora vivi oggi, si vede proprio nella grande resistenza delle masse popolari ucraniane contro questa invasione, contro questa invasione da parte dell'esercito russo. In 2014 Putin accusò il processo rivoluzionario in Ucraina di essere un processo dirigito per i fascisti e voleva imponere un regno fascista in Ucraina. E ripete, è questo oggi. Si Putin nel 2014 ha affermato che, per cercare di contrastare la rivoluzione di Maidan, che quel processo rivoluzionario era diretto dai fascisti, dai fascisti ucraini, che volevano imporre un dominio fascista in Ucraina. Per la tele in Moscù, nel principal telecanale, io ho visto questo molte volte, si accusava direttamente, si diceva che in Ucraina, che in Kyiv, i fascisti stavano crucificando vivi le cattoliche. Sì, proprio nella televisione russa, loro vedevano in quei giorni le trasmissioni russe, dove si diceva che in Ucraina, ad esempio, i nazisti stavano ammazzando i giovani cattolici, i bambini cattolici, e quindi li stavano crucificendo, eccetera, tutta questa propaganda, diciamo, da parte organizzata per, appunto, sostenere questa teoria della rivoluzione fascista. È una grande mentira, però che si appogia, come toda gran mentira, si appogia in un punto della realtà. È una grande menzogna, una grande bugia, ma come tutte le bugie, no? Si appoggia su alcuni elementi di verità. Che è la reale esistenza di gruppi di estrema direzione in Ucraina. Che è il fatto che effettivamente in Ucraina esistono dei gruppi di estrema destra. Esti gruppi sono molto piccoli e la sua influencia di Ucraina è molto exagerata per Putin e per gli stavini. Però questi gruppi in realtà sono molto piccoli e la loro influencia sulle masse Ucraina è exagerata in funzione propagandistica da parte di Putin e di suo alleati. Per esempio, nelle elezioni del 2019 cattolici unificato di tutta la estrema direzione. Recibio 1,6% Per fare solo un esempio, nel 2019 ci fu un candidato di tutti i partiti dell'estrema destra e questo candidato ha preso le elezioni il 1,6%. La lista unificata della estrema direzione per le elezioni legislativi di Ucraina per la rata del Parlamento ucraniano atteggiò 2%. Non si chiedono nessuno diputato. Si, di fatto non sono riusciti a deleggere nemmeno un diputato all'interno del Parlamento diciamo ucraino. Immagini se compariamo questi numeri di 1 o 2% con i risultati della Frente Nazionale di Marine Le Pen in Francia o della Liga della Liga Nord in Italia o di organizzazioni come Vox in Spagna eccetera e per l'immagine che dire che tutta l'Europa occidentale è fascista. Sì e se dovessimo fare così utilizzare lo stesso argomento di Putin allora dovremmo fare il paragone con quello che succede in Francia con l'estrema destra in Francia con l'estrema destra in Italia la Lega di Salvini Vox in Spagna che hanno in realtà un radicamento maggiore rispetto anche elettoralmente rispetto a questi partiti di estrema destra ucraini però hai altro argomento dello che riconosce anche il peso elettoral dell'estrema destra è molto bassa però la presenza e l'influenza di essi dentro dell'estate del governo e delle forze armate ucraini sarebbe molto grande suppostamente c'è un altro argomento però utilizzato da Putin dalla sua propaganda che dice argomento in base a cui anche se le percentuali elettorali dell'estrema destra in Ucraina sono molto basse però i fascisti dell'estrema destra avrebbero un peso importante all'interno dello Stato all'interno dell'apparato di governo eccetera e soprattutto all'interno delle forze armate si parla molto del battaglion Asov un battaglion un squadron di nazionalista di derecha che fu cooptato alla guardia nazionale ucraina si si parla molto anche qui in Italia poi tra l'altro giungo io di questa brigata di estrema destra che farebbe parte della resistenza ucraniana e che effettivamente un'organizzazione fascista questa battaglion Asov surgiu in 2014 in la defensa di Mariupol dove stanno bombardando oggi in la defensa di Mariupol perché le forze armate regolari di Ucrania erano legate alla antiga dictatura che fu derrombata per la Revoluzione Sì questa brigata Asov di fatto si costituì quando c'è stata l'annessione della Crimea nelle regioni di Limitrofe Mariupole intorni per cercare di contrastare perché l'avevano fatto per contrastare l'invasione russo E quindi di fatto se si sono rafforzati questi gruppi fascisti è proprio come risultato della politica di occupazione di Putin delle regioni della Crimea e del Donbass Putin dice che è l'excusa ora per il bombardaggio di Mariupole che l'esquadrone Asov è il responsabile per matar la popolazione russo parlante di Ucraina E adesso Putin sta dicendo che questo battaglione Asov di fatto sarebbe responsabile dell'uccisione della popolazione russa russofona della regione Oculta sin il hecho che tutti i membri della battaglione Asov sono russo parlanti perché sono tutti dell'estero dell'Ucraina E quello che non dice che nasconde il fatto che tutti tutti i membri di questo battaglione Asov sono russi in realtà parlano russo perché sono delle zone russofone dell'est dell'Ucraina se calcule che il battaglione Asov conta con più o meno 800 combattanti di ideologia nazionalista di extrema derecha 800 si si conta che questo battaglione Asov abbia circa 800 attivisti miliziani che hanno un'ideologia di estrema destra nazionalista Dico è intenzionalmente esagerata da parte della propaganda russa però comparemo ora con il peso della extrema derecha in Russia ma vediamo adesso come è la situazione dell'est l'extrema destra in Russia i battaglioni Grom o Rusic per esempio il battaglione Grom o Rusic che contano con 12.000 combattanti 12.000 12.000 12.000 invece miliziani altro che 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 come simbolo questo battaglione di 12.000 russi la svastica la svastica slava e molti altri gruppi come di Hauks o l'Unità Nacional Rusa la Unità Nacional Rusa e ci sono altri gruppi come ad esempio uno che si chiama Unità Nazionale Rusa che sempre organizavano in Moscù in altre città del 4 di novembre la Marcha Rusa e sempre organizano il 4 di novembre a Mosca la Marcha Rusa miren después in internet la Marcha russa del 4 de novembre e las fotografie si verano che è il fascismo in las calles guardate le foto in internet della Marcha russa del 4 novembre a Mosca e vedete i numeri quello che rappresenta la extrema destra nazionalista in Russia Mosca considerata la città con la più grande quantità di skinheads in tutto il mondo io perdì incluso un conocido un cubano negro che fuori morto per le skinheads di Mosca e c'è anche noto il caso di un compagno nero che è stato ucciso da questi skinheads di extrema destra russa bene ricordare che dal 2014 però ci sono molto meno nazi skin a Mosca perché si sono tutti spostati nel Donbass per combattere a favore dell'indipendenza della regione di Donbass però infelizmente non si rassume a questo hablemos ora della situazione in Chechenia ma non è tutto qua vediamo adesso com'è la situazione in Chechenia la dittatura chechina che fu imposta per Putin è responsabile per mille di muerti di opositori la dittatura chechina che è stata imposta da Putin è responsabile di milioni di morti in Chechenia hai campi di concentrazione per homosexuali socialisti o ateosi in Chechenia ci sono i campi di concentramento dove vengono rinchiusi gli omosessuali comunisti fero fero muerti i periodisti di oposizione e non restò uno in Chechenia che pote coprire la situazione sono stati uccisi tutti giornalisti independenti che erano presenti in Chechenia non è per casualità che Kadirov il leader Chechenia inviò sus tropi ora per Ucraina per combattere contro gli ucraniani e non è un caso che il leader Checheno all'eato di Putin oggi sta mandando le sue truppe in Ucraina ci sono anche delle milizie che sono legate agli oligarchi russi sono esercitos privati che combattono in Libia in Siria in Mali in Repubblica Centroafricana Sono proprio gruppi di mercenari privati che hanno combattuto in Libia in Siria in Mali negli stati centrafricani Miren se tienen estomago los videos hechos por il gruppo Wagner in Siria per vedere come torturaron a los representanti della oposizione contra Assad Si potete vedere quello che hanno fatto i representanti del gruppo di questo gruppo Wagner in Siria dove hanno torturato tutti di fatto i representanti dell'opposizione al governo alla dictatura di Assad Incluso Putin sta ora enviando a Ucraina para a 16.000 mercenari del regimen d'Assad che combattono in Siria E non è un caso che oggi Putin sta mandando l'Aj in Ucraina per sostituire i soldati demoralizzati del suo esercito di 16.000 mercenari siriani di Assad Por ultimo miriamo dove sta tutta l'estrima derecha europea che sta tutta con Putin con alternativa per Alemane con Vox con Salvini si vediamo poi di fatto cosa ha fatto negli ultimi anni l'estrema destra di tutta Europa dall'estrema destra tedesca Vox Le Pen ma lo stesso Salvini negli ultimi anni hanno sempre di fatto sostenuto Putin e quindi questa diciamo dimostrazione che non c'è nulla diciamo di antifascista nella politica di Putin incluso aquellos che si differenziano ora di Putin debido alla solidarietà con l'Ucraina come è il caso Salvini si differenzia e si pone contro l'aggression contro l'Ucraina però si pone contro le sancioni e qualche politica di responsabilizzare Putin per la situazione Sì anche quelli che adesso come Salvini si differenziano non dicono di essere esplicitamente a favore della pressione dell'Ucraina dell'invasione dell'Ucraina perché sanno che è impopolare però al contempo continuano a non denunciare i crimini di Putin e cercano di ostacolare qualsiasi sanzione nei suoi confronti eccetera E come ultimo argomento lo delle esigenze che pone Putin ora per un sesso al fuego con l'Ucraina Come ultimo argomento per dire che sono mentira lo del fascismo cito a le condizioni che Putin impone per un sesso al fuego con l'Ucraina Ok come ultimo argomento per dimostrare di fatto quanto sia infondata qualsiasi idea che ci sia un tentativo di denazificare o defascistizzare l'Ucraina da parte di Putin vediamo quali sono le condizioni che voglia imporre Putin all'Ucraina in cambio di un cessato il fuoco Sono tre condizioni che Ucraina non entri in l'autage che Ucraina riconosca Crimea come russa e riconosca il Donetsk Lugansk e Donetsk come indipendenti Sono tre condizioni che vuole incorrere Putin all'Ucraina che non entri nella NATO che riconosca di fatto la missione della Crimea e che riconosca la missione del Donbass alla Russia E quindi dove sarebbe questa denazificazione che doveva essere l'obiettivo dell'invasione russa Molte analisti borghese dicono che è difficile capire cosa passi nella testa di Putin che cosa voglia che intenzioni abbia Non è difficile Putin parlò claramente quali fossero sus ragioni ma in realtà non è così non è difficile capire quali sono le sue intenzioni anzi lui è stato molto chiaro nell'esprimere le sue intenzioni Putin ha detto che il motivo è che l'Ucraina non ha il diritto di essere una nazione indipendente e che l'indipendenza nell'Ucraina è stata una colpa di Lenin e di bolshevichi e che per questo sua politica è la descomunificazione dell'Ucraina o sia che se le quitte il derecho a determinare in quanto nazione e quindi come lui stesso in alcune occasioni ha dichiarato l'obiettivo della sua politica è quello piuttosto della decomunistizzazione dell'Ucraina cioè dell'annulare quello che avevano fatto i bolshevichi e la rivoluzione di ottobre con l'Ucraina riconoscendo l'indipendenza dell'Ucraina stessa mio figlio di 14 anni l'altro giorno mi ha chiesto ma papà se Putin adesso vuoi dire continua questa guerra e di fatto occupa l'Ucraina e impone le sue condizioni all'Ucraina questo non è forse fascismo mi pare che mio figlio di 14 anni ragona molto meglio che tutta la istria di istria tutto sommato mio figlio di 14 anni ha capito molte più cose di quelle che hanno capito alcune organizzazioni di sinistra del mondo grazie Fabiana la grazie mille Diego per il intervento ovviamente anche grazie Fabiana per la traduzione adesso do la parola a Florence Hoppen che appunto fa parte della sezione statunitense della litte worker voice che verrà tradotta da Matteo Buonasera a tutti compagni e compagni grazie mille per avermi invitato a parlare con voi questa sera I also want to thank the very good presentation our comrade Diego did from Russia and I would like to share you tonight how do we see this war here from the United States As you might imagine the Biden administration is has launched a full support for Ukraine against Russia and working people in the US also express a tremendous solidarity with the Ukrainian people As you can imagine the administration Biden expressed solidarity with the Ukrainian government but also the popular workers in the United have proved infinite solidarity with the Ukraine but we do it with different reasons and with different strategies but with two big differences between two solidariet expressed and two different strategies One of the reasons why Biden is rushing to attack Putin denouncing as a fascist who he is and aid Ukraine is to hide the weak record of his first year in office He has failed to pass any of the major social reforms that he promised to the American working class no union reform no voting at reform no major social benefits for the workers but he managed to pass something on December of last year which is one of the largest military budgets in the US in times of peace 700 billion dollars for the military defense which is the largest military spending during the Afghanistan war and this points out to the real reason why Biden is rushing to block against Russia in Ukraine e questo dimostra qual è il motivo per cui Biden si sta affrettando a contrastare la Russia in Ukraine He is terrified of the rising power of a new imperialist block that of China which is aligned with Russia and potentially India and is setting the demise of US imperialism in the world order and I would like to show to you that the aid that Biden is offering Ukraine is an aid with strong imperialist criteria The first of it is that still today the Biden administration refuses to grant refugee and asylum status to all any Ukrainian refugee that wants to come to United States The second thing I would like to share with you is the unprecedented sanction or economic war that Biden is raging against Russia He has cut Russia from the world banking system He has blocked oil exports He has frozen foreign assets in Russia He has also blocked any technological exports to Russia He has any foreign investment in Russia and any foreign investment in Russia Of course he says so that he does this to support the Ukrainian people He clearly says that he does to support the Ukrainian people but he is doing it to weaken an economic rival and to transform a legitimate war of national liberation into an interimperialist war in realtà lo sta facendo per indebolire economicamente un nemico e per trasformare quella che è una guerra di liberazione nazionale in una guerra interimperialista Quando gli europei non potranno comprare le riserve energetiche russe dovranno comprare il gas liquido prodotto negli Stati Uniti imperialist sanctions not only serve imperialist warfare at the economic level they also serve the project of national unity le sanzioni imperialiste non servono soltanto come aiuto economico a questo progetto di guerra interimperialista ma servono anche all'unità nazionale imperialista so the russian people block with putin as the american people will block with biden così le le masse russe andranno a unirsi con putin esattamente come le masse statunitense andranno a supportare biden but we marxist in our unconditional defense of the ukrainian people against russia we defend a strategy of class independence and working class solidarity ma invece noi marxisti in fermo sostegno della lotta delle masse popolari ucraine sosteniamo questa resistenza con una strategia diversa che è la strategia internazionalista della classe operaia e quindi non supportiamo le sanzioni imperialiste ma organizziamo e sosteniamo la lotta attraverso scioperi e contro l'esportazione delle marci russe e l'invasione militare let me tell you also about the content of the military aid package to ukraine parliamo anche del contenuto effettivo di questo fantomatico aiuto militare che viene mandato alle masse ucraine 13.6 billion dollars have been voted in u.s. congress to aid ukraine sono stati votati 31 miliardi e mezzo dal congresso americano per aiutare l'ucraina un terzo un terzo di questi sono aiuti puramente umanitari che noi non contrastiamo un altro terzo è di armi per l'ucraina che anche questi noi non li contrastiamo ma un terzo è diretto a portare più truppe in Europa per build up NATO per intensificare i servizi di intelligence militari e la presenza della CIA nella regione per finanziare il controspionaggio e sostenere le sanzioni economiche e questo pacchetto era un pacchetto unico che ha ricevuto un supporto bipartisan all'interno del Parlamento americano e quindi se volevi aiutare le masse ucraine e il popolo ucraino dovevi accettare anche il rafforzamento della NATO e questa è la vera politica di Biden ed è un terribile ricatto contro la classe operaia americana se volete sconfiggere la Russia dovete espandere la NATO e all'interno di questo progetto non c'è nessun tipo di spazio per l'indipendenza delle masse popolari ucraine perché noi ci opponiamo anche alla trasformazione dell'Ucraina in una semicolonia degli Stati Uniti e della NATO parliamo un attimo della NATO ora You do know that there are in Europe today couple dozen military bases and close to 100 thousand permanent US troops You that there are several dozen of American military in Europe and there are several tens of thousands of American troops We also know that since the dissolution of the Soviet Union NATO has expanded to 14 new countries We also know that since the dissolution of the Soviet Union NATO has expanded in another 14 countries And we do know that the expansion of NATO which is a military alliance is the expansion of European and US imperialism in the region And we know perfectly that the expansion of NATO which is an military alliance means the expansion of United imperialism and the imperialism in the region For the last decade the budget of NATO has increased every year Negli ultimi dieci anni il bilancio la spesa della NATO è cresciuta di anno in anno From 2022 to next year it would increase 8% Da qui all'anno prossimo dal 2022 all'anno prossimo aumenterà 80 8 80 80 80 80 8 8 That was decided before the invasion of Ukraine This was decided before Ukraine invasion that is to say that during the worst pandemic social crisis and economic crisis the military budget of NATO went up 8% E quindi questo vuol dire che durante la crisi economica e pandemica il bilancio della NATO era già previsto aumentare dell'8%. Da quando è iniziata questa invasione abbiamo 8000 unità della truppe della NATO in più nella regione. E oggi Tottenberg, il capo della NATO, ha annunciato l'invio di ulteriori truppe. Molte truppe saranno inviate nei paesi che sono... Siamo al confine dell'Ucraina, Bulgaria, Romania, Ungheria, eccetera. Siamo di fronte a una guerra complicata. Perché c'è un'invasione dell'Ucraina da parte della Russia che dobbiamo rigettare. Ma tutto questo sta avvenendo nel contesto di una crescente rivalità interimperialista nella regione. Quindi i nostri compiti oggi sono semplici e complicati allo stesso tempo. Oggi ci sono due campi militari della Russia che sta invadendo l'Ucraina e l'altro è il campo militare che vuole la sconfitta dell'invasione russa. E noi chiaramente siamo pienamente e convintamente all'interno del campo militare che vuole la sconfitta dell'invasione russa. E qui negli USA concretizziamo questa rivendicazione, questa parola d'ordine non solo con la sconfitta militare dell'invasione russa. Ma anche col diritto delle masse popolari ucraini all'autodeterminazione e ad avere le armi per difendersi dall'invasione. Ma all'interno del nostro campo militare abbiamo due forti elementi di pressione da parte del riformismo. Ma all'interno del nostro campo militare abbiamo due forti elementi di pressione da parte del riformismo. Il primo è il social patriottismo. Il primo è il social patriottismo. Che sostanzialmente è la richiesta, la sottointesa di supportare l'imperialismo statunitense per sostenere le masse popolari ucraine. Questa pressione si concretizza nel sostegno alle sanzioni imperialiste, alla richiesta di una no-fly zone e all'invio di nuove truppe della Nato. Ed ecco perché all'interno di quel campo militare noi spieghiamo che non è questa la soluzione e che è necessario rimanere indipendenti dall'imperialismo americano. Non possiamo e non vogliamo marciare assieme con settori che sostengono la necessità di un intervento imperialista in Ucraina. Ma abbiamo anche forti pressioni social pacifiste. Ci sono quelli che difendono in astratto il diritto degli ucraini all'indipendenza, ma che non sostengono il fatto che debbano avere delle armi, che gli debbano essere date delle armi per difendersi. Ci sono quelli che dicono che la guerra è brutta in generale e che quindi non dobbiamo prendere una parte, non c'è un campo con cui dobbiamo stare in questa guerra. E quando gli chiediamo ma allora qual è la soluzione ci dicono che credono in una soluzione diplomatica e hanno fiducia nell'ONU. E quindi alla fin fine questo social pacifismo porta a un social imperialismo. E quindi oggi negli Stati Uniti stiamo lottando per costruire un campo che supporti la lotta della resistenza ucraina. ma che non supporti l'imperialismo americano, che non sostenga la necessità di un'invasione diretta dell'Ucraina da parte della Nata. Perché siamo convinti che questo sia il compito della classe operaia internazionale. E chiaramente vogliamo sostenere fino in fondo la resistenza delle masse popolari ucraine. Ma sappiamo anche che la sconfitta dell'invasione militare russa è il risultato della mobilizzazione delle persone lavoranti in Russia, negli Stati Uniti e in Europa. Ma sappiamo anche che la sconfitta dell'invasione militare russa e l'impedire un intervento diretto della Nato può essere il risultato solamente della mobilizzazione della classe operaia in Russia, negli Stati Uniti e in Europa. La sconfitta dell'invasione militare russa in Ucraina può essere il risultato solamente di uno sforzo coordinato della classe operaia in tutto il mondo. E quindi abbiamo uno stesso programma strategico ma avremmo degli approcci tattici differenti nei diversi paesi. E quindi questa guerra oggi in Ucraina ci ricorda che non saremo in grado di trovare una soluzione senza costruire un'organizzazione internazionale rivoluzionaria. Ed ecco perché penso che sia molto importante l'incontro di questa sera. Sono molto contenta di essere qui e voglio sentire cosa hanno da dire anche i compagni italiani. Grazie mille Florence e grazie mille ovviamente anche a Matteo per la traduzione. Adesso c'è la relazione finale di Francesco Ricci che è uno dei dirigenti della nostra sezione italiana appunto del PDAC. Lascia la parola a lui. Uno che se ne intendeva di questioni militari un generale prussiano piuttosto famoso von Klosewitz che è stato molto studiato dai dirigenti marxisti, da Lenin eccetera diceva la guerra è la continuazione della politica con altri mezzi. Lenin riprendeva spesso questa frase intendendo dire che quindi durante la guerra i rivoluzionari non rinunciano alla lotta di classe e all'indipendenza di classe. Però possiamo aggiungere che questa frase vuol dire anche un'altra cosa che i riformisti continuano durante la guerra così come durante la pace a essere subalterni alla borghesia e ai governi borghesi. Se voi guardate un po' le posizioni che hanno assunto in queste settimane, in questi giorni, le principali organizzazioni riformiste, semiriformiste, quelle che noi definiamo centriste italiane, vedrete che c'è un narcobaleno di posizioni apparentemente differenti, in alcuni casi apparentemente contrapposte e tuttavia hanno due punti in comune. Il primo, prescindono tutte dall'analisi di classe e da un programma di classe. Il secondo, ignorano tutte l'esistenza di un popolo oppresso, il popolo dell'Ucraina, che come è stato spiegato dai compagni che mi hanno preceduto, è oppresso da secoli e che non è stato oppresso soltanto per i pochi anni in cui l'Unione Sovietica era diretta, dai bolshevichi di Lenin e Trotsky. Vediamole un po' queste posizioni, provo a riassumerle anche per cercare di capire quali sono le differenze fra quello che noi proponiamo e le posizioni che sono espresse dalla gran parte del movimento operaio, dell'organizzazione, della sinistra in Italia, ma anche internazionalmente. Diciamo che c'è un primo gruppo che sono quelli che potremmo definire fiduciosi nel dialogo, nel dialogo fra i popoli, così lo chiamano, e sono, chi sono? Sono i partiti riformisti che hanno sostenuto negli ultimi 15-20 anni i governi borghesi, cosiddetti progressisti, e che sono disponibili laddove ce ne fosse la possibilità a tornare a fare questa stessa cosa nei prossimi anni. La loro proposta è di delegare la soluzione della questione ucraina alla borghesia, per questo invocano l'intervento dell'ONU, quella che Lenin definiva nella sua versione anteriore, la società delle nazioni, un covo di briganti imperialisti, che ha coperto in tutti questi decenni tutte le guerre, e in qualche caso addirittura si spingono a chiedere l'intervento dei caschi blu, cioè dei militari dell'ONU, come se fosse un problema di colore dei caschi, come se non sapessimo cosa hanno fatto i caschi blu ad Haiti, nell'Aes Jugoslavia, in Bosnia, le occupazioni militari, gli stupri. C'è un secondo gruppo che io definirei dei pacifisti puri, cui alludeva anche la compagna Florence adesso nel suo intervento, sono quelli che rifiutano la guerra in generale, quelli che dicono le armi chiamano armi, se si inviano armi alla resistenza dell'Ucraina ci saranno più morti, come dire, che gli ucraini accettino di tenere il tallone di ferro di Putin sulla loro nuca, perché altrimenti ci saranno più morti. Gli ucraini si affidino in qualche modo a che cosa? Non alle armi. E cosa rimane se non ci sono le armi in una resistenza? La preghiera. E badate che non è una battuta questa. I cremaschi di Papa, acerbo, segretario di rifondazione, non fanno altro in questi giorni che richiamarsi al cosiddetto Santo Padre, al Papa, alla preghiera, perché non rimane nient'altro. È chiaro che se in una resistenza togli le armi, l'unica cosa che possono fare gli ucraini è pregare, pregare. Ovviamente anche noi siamo per la pace. Il problema è che siamo in un sistema che vive di sfruttamento, di guerre, di oppressione di alcuni paesi. Si chiama imperialismo. Finché non avremmo disarmato la borghesia non è possibile, noi pensiamo, noi diciamo, non è possibile gettare le armi purtroppo. Per questo noi pensiamo che ci siano anche sì guerre giuste. I marxisti pensano che sì, ci sono anche delle guerre giuste. La guerra civile, ad esempio. La guerra civile è un passaggio ineludibile di una rivoluzione ed è una guerra giusta. Sì, le guerre di indipendenza dei popoli oppressi, sì, sono delle guerre giuste. C'è un terzo gruppo, è una schematizzazione la mia chiaramente, e sono quelli che io definisco i leninisti per equivoco. Sono quelli che dicono e ci ripetono e ci ricordano che per i marxisti l'unica patria è il mondo intero, la patria è il mondo intero, come diceva giustamente Marx. Il minimo che si può dire di questi leninisti è che non hanno letto un rigo di Lenin sull'imperialismo, su quanto Lenin diceva e distingueva fra il nazionalismo degli oppressi e il nazionalismo degli oppressori. Un quarto gruppo, in questa mia schematizzazione, lo definirei degli anti-imperialisti per equivoco. Sono quelli che ci spiegano che Zelensky è un amico dell'imperialismo, cosa vera, e che aggiungono che quindi chi difende l'indipendenza dell'Ucraina sta facendo il gioco della CIA, dell'imperialismo degli Stati Uniti. Proviamo a mettere alla prova questa teoria. Se ogni volta che in una guerra di classe, se ogni volta che in una guerra di un popolo oppresso, un settore imperialista interviene per strumentalizzare la lotta, secondo questa teoria, i comunisti devono starne fuori. E siccome, come sappiamo dalla storia dell'ultimo secolo, quasi sempre, di fatto sempre, l'imperialismo interviene per cercare di usare una lotta per i suoi fini, l'unica cosa che rimane, secondo questa teoria, è appunto la preghiera nel Papa. Se la direzione non è rivoluzionaria, ci spiegano, se la direzione di una lotta non è rivoluzionaria, i rivoluzionari non devono partecipare. Il problema è che questa teoria porta a un cortocircuito, perché i marxisti hanno sempre pensato che la direzione rivoluzionaria non sorge spontaneamente nelle lotte, deve essere costruita. Questo è il compito per cui esistono i marxisti. Non è quello di fare, per dirla con Marx, la critica critica delle lotte, ma intervenire nelle lotte per costruire un'altra direzione. Proviamo a fare qualche esempio, più lontano e più recente. Pensate a voi quello che è successo in Russia nel 1917. Nell'agosto del 1917 un generale golpista Kornilov minaccia di fare un golpe contro un governo che era stato istituito da una rivoluzione, dalla rivoluzione di febbraio. Un governo borghese, tuttavia, secondo i comunisti russi, secondo i bolshevichi. Il governo di Kereski. Proviamo a applicare il loro schema al 1917. La direzione della lotta contro il golpe era una direzione borghese. Applicando questo schema bisognava astenersi dal partecipare alla lotta contro Kornilov. Cosa fecero invece i bolshevichi di Lenin e Trotsky? Dissero noi appoggiamo il fucile sulla spalla di Kornilov, di Kereski, cioè del governo borghese, spariamo contro Kornilov e poi regoleremo i nostri conti con Kereski. Badate che non è che l'hanno scritto in qualche testo, è quello che hanno fatto. Se non avessero fatto così, i bolshevichi non avevano mai guadagnato la maggioranza dentro agli organismi di lotto dei lavoratori, non ci sarebbe stata la rivoluzione d'ottobre. Non ci sarebbe stata la rivoluzione d'ottobre. Su questo non riflettono questi presunti leninisti. Ma proviamo a fare un esempio a noi più vicino, quello della resistenza nel 1943-1945 in Italia. L'imperialismo anglo-americano intervenne in quella lotta, e come si intervenne? E offrì il suo sostegno, e metto sostegno fra molte virgolette, perché esattamente come il sostegno che sta dando oggi Biden e la Nato all'Ucraina, era un sostegno fasullo, un sostegno finto alla resistenza. Tuttavia stavano in quel campo militare lì. Cosa avrebbero dovuto fare i partigiani, i comunisti? Applicando questa teoria avrebbero dovuto astenersi dalla lotta. In effetti ci furono, attenzione, due posizioni nel periodo che va dal settembre del 1943 alla cosiddetta liberazione, che poi tanto liberazione non fu. C'era una posizione maggioritaria a sinistra che era quella degli stalinisti, i togliati, che diceva dobbiamo accodarci all'imperialismo anglo-americano, perché nel frattempo Stalin, Churchill e Roosevelt avevano diviso il mondo in zone di influenza, e l'Italia doveva stare sotto l'ombrello degli Stati Uniti. e quindi dissero ci dobbiamo alleare all'imperialismo, accodarci all'imperialismo, accodarci alla borghesia italiana, erano disponibili persino a sostenere la monarchia in Italia, perché non c'è altra possibilità, e quindi trasformare la resistenza in quella che chiamarono un secondo risorgimento, che portò alla ricostruzione dello Stato borghese italiano, a riconsegnare in mano agli agnelli, alla Fiat, ai padroni in Italia, lo Stato, che era in mano in realtà a 300.000 operai armati. Questa fu una delle posizioni, cioè stare nella resistenza, animare la resistenza, ma subalterni alla borghesia e all'imperialismo. Poi c'era un'altra posizione ultraminoritaria, che era quella dei gruppi, diciamo così, para-bordichisti. È sempre meglio mettere un para, perché il povero Amadeo Bordiga, diciamo, non centrava molto con queste cose e tanto meno centra con gli attuali bordichisti. Cosa dicevano questi? Questi dicevano no, guardavano il loro schema. Qui è una contesa fra paesi imperialisti. Da una parte ci sono i cosiddetti alleati, gli anglo-americani, dall'altra c'è l'imperialismo tedesco-italiano, eccetera. Quindi è una cosa che a noi non ci riguarda. Noi stiamo alla finestra di questa cosa qua. C'era tuttavia una terza posizione, che è quella che sostenero purtroppo ultraminoritari, perché schiacciati dallo stalinismo, dal fascismo, dalla borghesia, i trotschisti. Pietro Tresso, i trotschisti. Sostenero una terza possibilità. Cioè quella di stare, di partecipare alla resistenza, per cacciare i fascisti e trasformare la resistenza in una rivoluzione socialista. Cacciare i fascisti, cacciare Mussolini, per cacciare la borghesia, che aveva animato, finanziato i fascisti. era una possibilità reale, badate questa, non solo in Italia, era una possibilità reale in Francia, in Grecia, dove l'imperialismo, cosiddetto democratico degli anglo-americani, soffocò nel sangue la resistenza greca per appoggiare la monarchia. c'era una terza possibilità. Ma torniamo ai dottrinari di oggi. Sono quelli che invece di proporre, di costruire nell'attuale, reale resistenza che c'è in Ucraina, una direzione di classe rivoluzionaria, come noi proponiamo, una direzione indipendente del movimento operaio, ancora una volta confrontano la realtà con il loro schema. E siccome la realtà non corrisponde al loro schema, non si adatta al loro schema, dicono, non resta che rimanere a guardare. Nel frattempo, ovviamente, mentre stanno a guardare, non smettono di fare la loro guerra. Con chi la fanno la loro guerra? Colpdac, con la Lit. Basta guardare i siti, i giornali di queste organizzazioni, il grosso della loro polemica non è in realtà con l'imperialismo, né con Putin. È con noi. Ecco la posizione dei rivoluzionari. È con noi che polemizzano. La loro guerra è contro i trotschisti. E ci sono in questo campo quelli che io definisco i trotschisti per equivoco. Un'organizzazione che si contraddistingue in Italia in questo senso è la SCR, la IMT. polemizzano con chi sostiene la resistenza e con chi sostiene che bisogna armare la resistenza, perché le resistenze si fanno con le armi, non si fanno con le parole. In realtà questa posizione che loro hanno maschera il fatto che non vogliono scontrarsi con i loro veri amici. I loro veri amici sono la famiglia Castro, Cuba, quelli che noi chiamiamo Castro-Ciavisti, il regime del Venezuela e così via. La cosa più grottesca, per questo io richiamo trotschisti per equivoco, è che danno a tutto questo una copertura presuntamente trotschista, marxista, tra molte virgolette. Arrivano persino a citare un grandissimo internazionalista e rivoluzionario, Carl Ibn, che fece con Rosa Luxemburg la rivoluzione nel 18-19 fu ammazzato da un governo che loro probabilmente avrebbero sostenuto, un governo delle sinistre. Carl Ibn diceva, è la frase molto nota, il nemico principale è nel proprio paese. Cosa intendeva dire Carl Ibn? Intendeva dire che quindi i marxisti durante la guerra non sospendono la lotta di classe e cercano di trasformare la guerra militare in guerra civile, in guerra contro il loro governo, la loro borghesia. Loro interprano tutto questo dicendo questa stessa frase quello che succede in Ucraina non è affar nostro, noi ci occupiamo del nemico in casa nostra. In uno degli ultimi articoli in cui polemizzano con la nostra posizione dicono indipendenza dell'Ucraina, ma l'Ucraina non è un paese indipendente, dipende dall'imperialismo europeo e dagli Stati Uniti. guardate, è un capolavoro di logica. Dato che un paese è dipendente, perché dovrebbe lottare per l'indipendenza? Sembra il paradosso di cui parlava quel libro famoso un po' di anni fa in cui è entrato anche un film comma 22 che diceva chi è pazzo può chiedere di essere esentato dalle missioni di volo, ma chi chiede di essere esentato dalle missioni di volo non è pazzo, è un cane che si morde la coda. In quest'ottica qua esiste solo un ragionamento di tipo binario, on-off come si dice nel linguaggio dei computer. ci sono solo due possibilità. Possibilità 1 scegliere di stare o con Putin o con la Nato. Possibilità numero 2 stare dalla finestra in attesa della rivoluzione pura. Questo è quello che ci propongono diciamo questi pseudotroschisti. Noi dobbiamo dire loro che c'è anche una terza possibilità perché come diceva l'amleto di Shakespeare al suo amico Orazio ci sono più cose tra cielo e terra caro Orazio di quante ne comprenda la tua filosofia ci sono più cose fra cielo e terra. C'è anche un'altra possibilità fra queste due che loro ci offrono una terza è quella che attuarono Lenin, Trotsky i marxisti da sempre. Durante la prima guerra mondiale Lenin diceva noi stiamo con l'indipendenza dell'Irlanda contro l'imperialismo inglese anche se l'imperialismo tedesco cerca di usare la lotta degli indipendentisti irlandesi per i suoi fini. Nella guerra del 1937 che inizia nel 1937 fra la Cina e il Giappone Trotsky diceva noi stiamo con la Cina diretta da Shanghai Che è stato che è stato il massacratore dei comunisti delle comuni di Canton di Shanghai e stiamo nel suo campo militare continuando ovviamente l'opposizione a questo governo per prepararci poi a rovesciarlo cioè costruire la direzione rivoluzionaria nelle lotte reali questo è quello che contraddistingue i marxisti e veniamo alla nostra posizione di oggi che è già stata ampiamente illustrata dai compagni che mi hanno preceduto noi siamo con la resistenza dell'Ucraina senza per questo interrompere per un solo minuto l'opposizione a Zelensky che sì è un servo della NATO dell'imperialismo americano europeo che si prepara probabilmente a capitolare nei prossimi giorni e nelle prossime settimane a sacrificare il sacrificio del suo popolo che sta resistendo e siamo lì per costruire una direzione rivoluzionaria che possa dopo aver sconfitto l'invasione della Russia regolare i conti con Zelensky per questo esigiamo armi alla resistenza dell'Ucraina perché le resistenze si fanno con le armi si fanno con le armi e le esigiamo da chi? dai falsi amici dell'Ucraina che mandano solo come è stato detto da chi mi ha preceduto solo ferri vecchi anche il governo italiano come è emerso nei giornali dei giorni scorsi sta mandando che cosa? gli scarti dell'esercito italiano li manda all'Ucraina perché hanno paura che il proletariato ucraino si armi e questo hanno in realtà paura senza per questo difendere e interrompere la nostra opposizione all'imperialismo l'opposizione alle politiche di riarmo del governo Draghi è stato detto da Inesan nell'introduzione 104 milioni al giorno per il riarmo milioni di euro al giorno per il riarmo dell'Italia mentre non trovano soldi per la scuola per la sanità lo sfascio certo che combattiamo contro la Nato e continuiamo e non interrompiamo la nostra opposizione la battaglia per la distruzione di questo patto di guerra e di morte che è la Nato lo citava la compagna Florence in Italia ci sono 120 basi della Nato nel nostro paese noi siamo per la distruzione di questo patto di morte ma davvero lasciatemelo dire è davvero imbarazzante davvero imbarazzante dovessi sentire delle elezioni di anti-imperialismo contro la Nato da Paolo Ferrero ex segretario di rifondazione comunista che è stato ministro di un governo imperialista che ha fatto le guerre badate è veramente imbarazzante dover sentire delle elezioni in questi giorni da Paolo Ferrero su cosa è l'anti-imperialismo noi combattiamo anche contro come diceva Florence i possibili scenari di guerra mondiale che ci stanno sullo sfondo ma lo facciamo da rivoluzionari basandoci sull'indipendenza di classe del movimento operaio e quindi diciamo cosa significherebbe oggi una vittoria della resistenza in Ucraina significherebbe molte cose importanti non solo per gli ucraini in primo luogo sarebbe un impulso gigantesco alle lotte dei paesi che sono oppressi dalla Russia ne parlava Diego tutta quell'area oppressa dalla Russia di Putin potrebbero se la resistenza Ucraina vince fare domani i conti con Putin sarebbe un aiuto gigantesco al proletariato russo che è schiacciato sotto il tallone di ferro del presunto antifascista Putin che mette al bando sì i sindacati le organizzazioni del movimento operaio in Russia che manda la polizia contro le manifestazioni contro i manifestanti che manifestano contro la guerra di Putin all'Ucraina e sarebbe anche la possibilità l'unica possibilità perché il proletariato ucraino possa fare domani i conti anche con Zelensky servo della NATO sì servo dell'imperialismo europeo sì e sarebbe una spinta soprattutto per il proletariato di tutto il mondo anche per noi sarebbe la dimostrazione che è possibile al di là di quello che dicono i disfattisti è possibile sì è possibile che il proletariato armato di un paese possa non solo difendersi ma vincere anche contro una grande potenza militare come oggi la Russia la seconda potenza militare del mondo ma guardiamo un po' quello che succede in queste ultime settimane in questi mesi in questi ultimi due anni in realtà guardiamo la realtà mondiale compagni ci cantavano le lodi di questo sistema i riformisti ci dicevano basta che andiamo noi a governare governeremo diversamente questo sistema basta cambiare il governo alle prossime elezioni oggi vediamo che cosa abbiamo di fronte la distruzione del pianeta nuove pestilenze una miseria crescente le guerre la possibilità di una nuova guerra mondiale tutto questo ha un nome è il capitalismo il capitalismo noi possiamo combatterlo soltanto costruendo un partito un internazionale rivoluzionario un partito mondiale della rivoluzione oltre cento anni fa nel pieno del macello della prima guerra mondiale i rivoluzionari dicevano diceva Lenin diceva Trotsky stavano potevano essere contenuti tutti in due carrozze di treno nel 1938 alla vigilia della seconda guerra mondiale i rivoluzionari i trotsky fondavano la quarta internazionale sotto i colpi incrociati del fascismo delle borghesia cosiddette democratiche e dello starinismo in entrambi i casi il primo compito che si sono dati i rivoluzionali è stato quello di costruire il partito di costruire l'internazionale e quanto cerchiamo di fare noi oggi la lega internazionale dei lavoratori la LIT in tutti i continenti come vedete gli ringraziamo dalla presenza stasera di un compagno che ha diretto la nostra sezione in Russia della compagna Flores che dirige la nostra sezione negli Stati Uniti tuttavia a questo punto in generale arrivano gli scettici e ci dicono sì ma tutto questo è difficile è un compito impossibile la resistenza in Ucraina non può vincere contro il secondo esercito più grande del mondo e allora noi chiediamo ma scusate ma perché in Vietnam non si è vinto contro il più grande non il secondo contro il primo esercito imperialista del mondo e non è la storia di tutte le rivoluzioni la storia di tutte le rivoluzioni degli ultimi due secoli non è la storia di popoli di proletari che si battono e anche vincono sì anche vincono contro lo strapotere degli eserciti delle potenze del capitalismo dell'imperialismo non è questa la storia di tutte le rivoluzioni Trotsky diceva degli scettici questo diceva gli scettici non servono per cambiare le cose gli scettici non servono per cambiare il mondo e poi aggiungeva col suo solito umorismo in realtà ben pensando bene gli scettici non servono a niente a questo mondo e concludeva ogni rivoluzione sembra impossibile finché non diventa inevitabile è una lotta terribilmente complessa compagni e compagni quella che noi cerchiamo di portare avanti però è l'unica lotta giusta l'unica lotta possibile contro la barbarie di questo sistema a cui assistiamo anche in questi giorni in queste settimane col bombardamento a tappeto delle città in Ucraina e con la resistenza eroica sì eroica del proletariato dell'Ucraina e con le lotte eroiche eroiche dei lavoratori in Russia contro il loro governo e noi a questa lotta dobbiamo dare tutto il sostegno possibile questa è la posizione che noi esprimiamo e siamo orgogliosi di sostenere anche se da soli bisogna sapere andare contro corrente lo diceva appunto Carl Ibn e Lenin aggiungeva e concludeva dicendo ci sono momenti in cui bisogna sapere andare contro corrente ed è meglio essere uno contro altri cento come fu capace di fare Carl Ibn in Germania quando da solo si alzò nel Parlamento tedesco e votò contro i crediti di guerra è una lotta contro corrente terribile e difficile per questo chiediamo ai compagni che ci hanno seguito stasera e che ringraziamo di unirsi a questa lotta di partecipare a questa lotta perché è l'unica lotta possibile contro la barbarie di questo sistema vi ringrazio grazie mille Francesco e grazie mille a tutti coloro che hanno partecipato ringrazio nuovamente Lorenz e Diego per i loro interventi le loro relazioni importantissime oggi e niente ricordo come sempre di continuare a seguirci per le nostre pubblicazioni eccetera e soprattutto rinnovo l'invito che oggi più che mai secondo me si fa urgente di costruire effettivamente la direzione e di unirvi a voi appunto a noi per costruire appunto il partito e l'internazionale e niente grazie a tutti e buona serata grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.